amori miei sentite che voce ha gabri oggi o direte che bello adesso l'ascoltiamo con un timbro più basso quindi quindi ragazze mi sentite sono affona non è che ho preso freddo non ho fatto nulla di particolare a sì 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 qualcosa di particolare ho fatto questo weekend sono andata pure in mongolfiera c'era un evento al golf quindi è stata una cosa molto piacevole ma molto 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 piacevole ma non credo che sia stato quello perché c'erano praticamente 30 gradi cosa indosso oggi ditemelo voi borse accessori ne sono arrivate tante devo dire che qui il sole c'è non c'è oggi è nì quindi questa giacca che io amo e adoro in maniera particolare portata soprattutto ha il suo calzone ha il suo pantalone a pareo ha il suo pantalone a zampetta sigaretta lo sapete papà papà anticipiamo che c'è qualche capo a 30 euro nello stendino ve l'ho scritto prima sul tasto comunicazioni quindi una cosa alla volta gabri non ho guardato il prezzo della della maglia quanto sarà la 29 29 sarà 25 sapete che ne abbiamo tantissime di queste magliettine c'è con la scritta c'è con i disegnini e non mi sono preparata ma andremo a trovare eccola qui 25 euro questa com'è taglia unica quindi a me è più morbidina e più lunghe ma ho deciso di metterlo ugualmente vedete che in questa somma di bellezza ma la vediamo da vicino carte perché un'altra volta le ho fatte vedere ma non si vede tutto questo è io da qui lo vedo in me lo vedi bene questo brillo meraviglioso vicino meglio non si vede quindi fa in modo che si veda guardate la vostra gabi da vicino magari oggi la sentite anche meglio ma dai adesso ho in bocca una caramellina dovrei avere un pochino più voce però bimbe fate una cosa assistetemi caso mai aiutatemi cercate di comprendermi non sforzo troppo salirà cosa vi devo dire chapeau caso di dirlo 20 euro il ritrovo meravigliosi ma ne sono rimasti molti c'è rimasto il bianco con la riga blu è rimasto in tutto blu è rimasto stupendo anche il color biscotto con la fascia in canite nera tutti i nostri accessori le borse le facciamo vedere dopo cioè quelle lavorate all'uncinetto che sono bellissime mi sono piaciute molto ho acquistato quelle e poi e poi e poi e poi ce ne saranno altre tipo questa che ho appena staccato il cartellino perché mi dava fastidio quindi ve lo dico subito 49 euro bellissima in pelle vedete alla cerniera per cui la potete anche chiudere poi dentro io sapete che mettiamo il rinforzo di cellophane per riempirla leggermente cosa vi posso dire pesa un grammo la potete caricare come facciamo sempre noi donne pelle argento quindi faccio anche un po pandan e se sì guardatelo guardatelo questo jeans perché lo trovo eccezionale cosa di diverso dagli altri è il modello quindi sempre 49 euro parte dalla xs per arrivare alla xl io indosso una media perché sapete che sono fastidiosa e io voglio sentire tutto bello morbido tutto bello largo qualcuna di voi magari avendo la vita vedete elasticizzata ed essendo tutto super elasticizzato io non tengo nulla in negozio se c'è qualcosa di non elasticizzato ve lo dico subito cerchiamo di non sforzare altrimenti non arrivo alla vita alla fine del video sicuro 49 euro la donna 49 euro il jeans cos'è da dire 49 la borsa la con la borsa in pelle argentata e c'è anche diciamo quel quell'oro rosato che a voi piace tantissimo bellissimo e lo si porta su tutto e infatti dicevo cos'ha da sorridere la carta vabbè la nostra gamba e comincia a dare numeri va bene ci sta torniamo al jeans bimbe mia cosa di diverso che lo vedete abbastanza asciutto sulla gamba perché sapete che la vostra gamba e comunque li riempie o la gamba abbastanza tornita ma non è aderente vedete a parte l'elasticità non è aderentissimo quindi ha un volume come tante di voi piace quando chiedete un calzone un attimino sigaretta più morbido quindi non è lo skinny è un discorso un po più morbidino vediamo di non andare che non farmi andare attraverso la caramella per la vola allora bimbe non so qui da noi c'erano 30 gradi forse oggi ce ne sono quanti 18 19 carte più o meno così vi lancio anche il meteo ma tutto ciò per mostrarvi come si può abbinare un jeans come possiamo abbinare la giacca di un nostro tailleur che francamente io trovo eccezionale alcune si limitano magari si pongono dei limiti no ma voglio una giacca corta ma voglio ma non potete di limiti ragazze cioè tutto sta bene indossato voi a me dite chi sta bene tutto gabri ma sarà anche vero ma però sento di portare tutto in con tutta tranquillità capite io questa vestita così mi sento non a mio agio di più di più qui abbiamo messo i nostri nostri fiorellini a 10 euro potete elaborare se volete oppure no le vostre i vostri tesori vuole le vostre giacche le vostre t-shirt ragazze sono arrivate tre tute taglia 50 marroni è bastato vederla indosso alla marina che pamo dovuto riportare su le tute dal made in brescia alcune sono state vendute ora abbiamo disponibili nel marrone solo tre taglie 50 che secondo me restano 50 52 carte vero si la t-shirt mezzamanica bellissima taglia unica quindi ha una vestibilità maggiore delle altre quindi arriva una bella 46 se poi la volete tenere più insucciata vedete voi jeans dalla xs quindi dalla 40 42 44 46 è più un discorso vita per arrivare alla 48 ma secondo me tante di voi li portano io ripeto preferisco sempre mettere una taglia in più perché 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 la vostra gabrie lo sapete a questa non dico mi piace mi piace portare una taglia più morbida in tutte le cose capite facciamo un giro si questo quello che indossavo domenica anche se faceva caldo verso sera io questo l'ho portato molto ma molto ma molto volentieri stupendo il pantapareo bellissima la nostra maglia quindi 69 69 e 99 la giacca sapientemente abbinata poi sarete voi a scegliere il vostro look i nostri coordinati guardate la meraviglia di questo abitino cosa vogliamo dirne devo dire che è proprio 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 brava qui ecco qui a sotto la sottoveste che poi è un mini abito in jersey io vi do una news dovrebbero entrare un abito con l'incrocio in jersey ma attenzione deve ancora andare al taglio quindi non esageriamo e poi vi faccio vedere di là un modello di abito scontato 30 euro stanno arrivando i suoi simili in due o tre o forse anche quattro fantasie sono sicura che quello in mano pesca e a voi piace tantissimo questo 99 euro doppiato e il giacchino a 69 euro scontato guardate la meraviglia andiamo ad estrapolare quel glicine quell'azzurro quella meraviglia che c'è all'interno adesso mi vado a togliere il cappello che lo trovo eccezionale mi piace da morire anche il colore calcio sono in ordine bene mi metto gli occhiali non ho bisogno di leggere i prezzi ma me li ricordo la nostra meravigliosa pantagonna in crepe stesso tessuto di questa giacca le nostre amiche mi sentono per il momento non si lamenta nessuno perché risolto la voce più squillante cerco di tenerla un po' spinta ma con il rischio di non averne più dopo vabbè Kate sarete felici di non sentire io si eh faremo il mimo sapevo che rispondevi così lo sapevo come ti conosco quindi devo mimare tu mi traduci esatto guarda che corre il rischio di venire a questa parte e io finno non eh ah sia mai prima c'è il mini boss per l'edità e poi se deve partire per andare per il tuo marito anzi sarà già anche volata quindi 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 facciamo veloci non sarà un video lunghissimo proprio per questa problematica comunque gonna pantaloni in crepe perché la gemellina di questo ma quanta allora ma dai tra le altre cose qui indosso una 40 di giacca ma quanto è bella questa giacca mi sto guardando mi piace tantissimo anche il jeans e anche la t-shirt comunque le t-shirt ne abbiamo tantissime amore torniamo alla pantagona dalla 40 ascoltate bene l'Italia non fate gridare la vostra Gabriele dalla 40 alla 54 in più colori chiedete su whatsapp che colori questa maglia meravigliosa nel verde nel bianco nel blu nel nero questo stop a 59 euro il giacchino questo polvere di stelle che quello a 99 euro 90 mi sembra giusto prezzo imposto quindi siamo sul tranquillo bottoni gioiello guardate qui la meraviglia questa questa tempestata diciamo così di polvere di stelle qui ha messo la nostra cinturina in metallo molto molto bella con la catenella a 20 euro la potete gestire come volete e direi che questo outfit compreso di stola a 20 euro è una meraviglia che dite bimbe sapete che in questi torsion si possono fermare anche anche le stole portato leggermente così è bellissima l'idea inventatevi voi il vostro la vostra maniera di indossare di portare le cose trovo che questo jeans ne dice anche tantissimo proprio bello 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 e soprattutto ragazze una seconda pelle dalla xs alla xl la nostra casacca smalicata che sapete che arrivano due casacche a brevissimo stampa farfalle caten lo sai te lo dico io che l'ho vista stamattina bella quindi questa approfittiamo del fatto che hanno l'incrocio che si può portare aperta che si può portare con tutti i colori il nostro pantalone a sigaretta rosso abbiamo la giacca abbiamo quello a trombetta il nostro giacchino che resta fino a una bella 50 tranquilla 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 e guardate quanto è bello se non erro 119 euro giusto sì sì esattamente 119 euro con tutte queste applicazioni con questi bottoni quindi 69 59 in bengalina e 119 euro il giacchino che potrei anche prendere e poi buttarmi e gestirmi qui sopra ok ragazze io girerei dall'altra parte sono arrivati il nostro portatelefono che l'ha messo via che un mio telefono volevo farlo vedere alle nostre amiche ne abbiamo fatto si capiva chi era amica mia o cliente gabriese perché avevano appese al collo tutte e tutte che le chiedevano quindi c'è oro meraviglioso qui applicate il vostro telefono e poi ve lo buttate al collo stupendo e meraviglioso le borse le facciamo vedere sì tanto si vede nello stendino 49 euro in pelle questa meraviglia qui la prendiamo tra le altre cose guardate ragazze se volete fare pandan questa è una cintura con la fettucina sempre in pelle da lasciare in vita come volete in pelle la applicate dove volete l'altra borsa sarà questo oro ed è meraviglioso ok ricordo quello poi no sono proprio questi due colori sì esattamente bellissimi e meravigliosi ve l'ho poi fatto vedere questo che arriverà anche nella di nuovo riassortiremo le taglie ve lo volevo indossare è una media mia è un po grande quindi aspettiamo che arrivi la small 119 euro 90 ma se non è una meraviglia questo ragazza sembra sembra georgette invece è jersey bellissimo il colore con questo con questo blu con questo verde con questo rosa con questa scollatura dietro è così una meraviglia intanto mettiamolo qua le nostre amiche saranno curiose tu mi hai messo l'acqua se devo bere ho qualche problemino a respirare però passa facciamo un change facciamo un change allora questo ragazze questo è un tailleur a tutti gli effetti sapete che abbiamo il pantalone a sigaretta abbiamo il pantalone pareo e abbiamo il pantalone a zampetta quindi tre pantaloni sotto l'occasione giusta per portarlo anche con un jeans o con un nostro pantalone sbragato adesso vado a farveli vedere non dubitate questa è una 42 giusto per dirvi che a volte in base alle taglie o in base a metto o il 2 o il o la 40 o la 42 perché perché avendo questa t-shirt possiamo anche dire ma pensa a te c'è un piccolo richiamo optiamo per un altro colore cosa dici Kate sta bene anche questo no? forse perché l'ho detto anche nella calzatura non chiedetele perché sono mie che sono anche datate 99 euro la giacca che è quella doppio collo fate pazienza e cosa dicono le mie amiche chiedono dove la tua voce chiedono se la star golf la tua voce non so dove l'ho lasciata ma da qualche parte è rimasta questo è un altro tipo di verde non è per questo è anche abbinabile tranquillamente questa è la pantagonna che c'è more niente non stavo leggendo di nuovo è tornata rianna allora ragazze pantagonna 59 euro sempre in crepe si può anche adattare volendo con questo tipo di verde e guardate qui ragazze abbiamo questa camicia sotto alla canotta quindi non è trasparente e la canotta è quella che fa il rimborso a 69 euro questo è proprio il suo colore abbiate un attimo di pazienza che poi vi faccio vedere il capo scontato 30 euro e perché ho scelto questi colori lo mettiamo qui un attimo sì allora giacca bellissima questa è quella in bengalina quindi un filino più leggera molto 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 bella possiamo sempre continuare a pensare di adattare se vogliamo adattare non è la parola giusta ma abbinare questo diciamo outfit col quale ci mettiamo e il pantalone a trombetta che è delizioso ok 59 euro ho messo tutto qui così vedete bene ci abbiniamo la gonna a palloncino con lo spacco dietro le tasche la culisse che si arriccia non bisogna dimenticare che va dalla 40 alla taglia 54 ok tutto quello che ho in mano credetemi è così ok 59 euro la gonna stesso tessuto in bengalina parliamo del calzone a sigaretta 59 euro dalla 40 alla 54 e dulcis in fondo il nostro pantalone chiamiamolo sbragato che è più contenuto di quelli dell'ultima stagione lo indossavo nel video precedente e giusto per quello piace tantissimo allora tutti sotto a 59 euro la giacca 99 euro la casacca 69 euro fermatevi lì che abbiamo ancora questo io l'ho indossato è bellissimo quindi partiamo da una 42 44 46 non oltre il sotto è leggermente cortino ma a me che non ho nemmeno poco seno mi va proprio bene anche in lunghezza 39 euro questo giusto per farlo vedere che lo potete poi abbinare come volete qui al momento abbiamo disponibile il fucsia il bianco il nero e lilla e il verde ovviamente che ho in mano ma lo so che li aspettavate me l'ho detto nel video precedente ecco qui un capo in georgette guardate quanto è tessuto con gli spacchi a questo gilet il tessuto di quattro camicia morire lo andiamo a posizionare con questa casacca facciamolo vi sto dando un capo della collezione precedente a 30 euro costava 79 euro quindi lo abbiamo voglia di farlo un completo così e poi ci giriamo sotto qualsiasi cosa avete voglia la gonna il pantalone trombetta il pantalone a sigaretta il pantalone sbragato la giacca fate quello che volete fate quello che volete e non è ancora finita togliendo la casacca vogliamo mettere sotto un'altra casacca giusto per farvela vedere e poi magari vogliamo abbinare sotto il pantalone la gonna chi è è ancora simo ancora simo sei sicura è sì la macchina è lì no voglio capire perché stiamo aspettando un corriere se sentiamo qualcosa guardate che bene anche questo colore questo tipo di rosa con questa casacca e questo capo scusate questo a 30 euro lo abbiamo in 1 2 3 4 colori poi vi dico le taglie questa è una 42 anzi nel verde ve la dico subito aspettate un attimo perché ancora l'abbigliamento cosa fate se la nostra gabrie non parlasse più ci mettiamo qui così insomaglia colori italia su whatsapp essenziale fatemi ripetere troppe cose oggi perché mi sembra che deve spiegato tutto dalla 40 alla 54 la maglia costina e ve l'ho detto abbiate compassione di me oggi che mi sto sforzando e che dire di questo abito 99 euro vogliamo buttarlo qui sotto dai 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 non ancora finita cate non è ancora finita perché se vogliamo mettere l'altro abito a 99 euro sotto e lo abbiniamo con il gilet secondo me uno si abbina all'altro e l'altro si abbina a quell'altro nel senso che questo capo a 30 euro scontato da 79 euro fatelo vostro fatelo velocemente scrivete velocemente su whatsapp amori miei scrivete velocemente su whatsapp lo posso anche indossare se volete e senzare che dici le taglie del gilet perché fremmono per le taglie è più che indossarle avete fretta certo che hanno fretta sono 2 e 35 aspettate eccoli qua 40 42 44 46 48 e 54 scusate se è poco sotto ci buttate tutti i calzoni tutti i colori che volete anche questo abito qua qua ci arriviamo dopo lo vorrete vedere tolgo la giacca e ve lo indosso anche perché qualche nostra amica potrebbe non sapere che cos'è indosso la 40 30 euro mi viene male sapete mi viene proprio 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 male perché è una meraviglia guardatelo qui così lo vedete anche addosso indossato diciamo così che vedete colore al momento verde se le nostre amiche aspettano eh si ci sta certo ci sta non è un grande cioè non è non si faremo non vi intrattengo tantissimo oggi davvero con il rischio di non arrivare poi magari va bene anche così Cate se voi volete che vi indossi magari qualcos'altro me lo dite ma va bene così diciamo che c'è anche la giacca per rinca che non è quella lunga ma è quella corta e anche se variano leggermente i colori si può fare anche questa cosa dite 99 euro bella anche così no quando una t-shirt richiama sta bene Cate giusto per ok bene la teniamo indosso da mettere indossare con tutte 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 le cose che vi ho appena proposto questo calzone arriva anche tutti gli articoli sotto arrivano anche alla taglia 54 anche le casacche ve la faccio vedere così siete sicure che c'è la 54 ok bene quindi potete abbinare questa maglieria a 30 euro che è meravigliosa questo è un cardigan decidete di prendere questo top di metterlo sotto fatelo poi ci mettete il calzone bianco sopra il top scontato a 35 euro prezzo outlet costava 45 poi scegliete voi abbiamo tanta maglieria da mettere sotto anche la semplice t-shirt anche la maglia che vi ho fatto vedere prima e fate uscire un pezzettino di manica questi li andiamo in più colori a 30 euro per cortesia chiedete su whatsapp vediamo se ho messo qui il golfino c'è comunque anche verde e altri colori c'è lilla c'è bianco insomma chiedete ragazze che pensate blu nero biscotto esatto poi c'è che cosa la maglia andiamo prendere quella che sono sicura essere eccola qui eccola questa c'è nera c'è blu è risortita stamattina si bianca verde fucsia lilla 30 euro quindi questa è over con le maniche lunghe over per modo di dire però la porterei anch'io portata over size sapete che quest'anno usano tantissimo le cose gli articoli così 30 euro si ragazze è viscosa ed è meravigliosa questa è la magliettina più piccola 42 44 46 abbiamo tutte le varie dimensioni capite quindi anche questa la potete mettere come più vi aggrada questa è una dimensione che è uguale a quella che vi ho appena fatto vedere questa ad esempio ha la manica tre quarti ed è un pochino più più piccola della precedente è più grande di questa quindi voi dovete fare solo una cosa girare le vostre misure su whatsapp giusto cate esatto i numeri ci sono ci sono ricordatevi solo che sono a 30 euro ok questa è una cosa importantissima e col jeans che indosso anche questo che quello che vi ho fatto vedere prima nel verde bianco lilla verde nero e l'ho già detto lilla e fucsia fucsia nero verde bianco e lilla esatto sono cinque colori c'era anche turchese vedo che è andato scordiamoci ho passato magari riarriva 39 euro che cos'è ha una maglia a tutti gli effetti è bellissima io l'ho indossata e mi è piaciuta anche moltissimo tant'è che me la sono presa altra novità di jeans a 49 euro lo aspettavate sì qui la nina sicuramente si fa sentire c'è la nostra nina a scuola guida no però adesso non la vedo ok allora gli devo mandare le devo mandare una foto dietro quindi a un cinque tasche come si suol dire cos'è palazzo super elasticizzato bello leggero dalla s alla l sml quindi ha uno scarto italia xs xl nada che non c'è la xl in questo vita alta leggero palazzo stupendo meraviglioso sempre a 49 euro questo è quello che indosso io nella s ma parte dalla xs per arrivare alla xl in questo che è sempre 49 euro che ci giriamo di queste maglie meravigliose 49 euro ragazze sono giuste per arrivare sulle misure di queste jeans una bella una bella manichina che poi alla fine ha un tre quarti molto molto carina nel blu con queste fasce di luminosità quest'altra questo verde acqua quindi 40 42 44 46 da mettere col jeans questa passiamo un altro colore adesso perché perché vi porto a un altro colore di gilet a 30 euro questa maglia non sarà il gilet scontato a 30 euro mai sempre a 30 euro quindi se poi volete dire pensa te aspetta un attimo che faccio questo contrasto di colore ci metto questo con questa maglia scontato a 30 euro 30 euro la maglia 30 euro il gilet diciamo se alla fine del video avrò ancora la voce Kat e tu cosa pensi? speriamo mi brucia la gola abito meraviglioso vogliamo fare un contrasto di colori come quello che ho fatto io come quello che indosso addirittura vedete che ho messo il glicine sta molto bene anche portato così ok poi ricordiamo la nostra borsa argento a 49 euro il nostro abito bellissimo dalla 40 alla 50 a 99 euro e il gilet a 30 possiamo mettere anche però questa è l'ultima è una taglia 40 e non ne abbiamo più di questa casacca ve lo dico subito ne arrivano altre con la fantasia farfalla e via dicendo comunque mettiamolo qui perché poi vi faccio vedere altro le nostre maglie in viscosa quelle che indossavo io nel nero l'altro giorno vi ricordate che ho fatto due o tre cambi nel video precedente andate a vedere e poi mi direte dalla small alla XXL quindi dalla 42 alla 54 59 euro in viscosa molto ma molto ma molto bene abbiamo solo la bianca che ce n'è una ed è solo in doppia XL ma giù c'è? no giù hai già chiesto? eh sì amore c'è di là la giacenza perfetto allora chiedete su WhatsApp vi daremo la giacenza d'altra parte ragazze le cose partono da una taglia piccola per arrivare a quella grande ma poi non stiamo qui a pettinare le bambole come diciamo sempre noi di conseguenza le vostre richieste sono tantissime avete voglia dei nostri articoli anche perché bisogna dire la sincera verità una volta provati non si fa più a meno eh che dici Kate? ah sì poi se mancano la causa sono loro eh sono le nostre amiche che non è una causa ma sicuramente no nel senso una giusta causa è una giusta causa esatto finita una cosa ragazze se ne ritaglia un'altra adesso arriveranno altre casacche arriveranno altre cose di conseguenza eh non vi lasciamo mai senza articoli sappiatelo giacca come il bianco abbiamo il trombetta il sigaretta lo sbragato con la taschina dietro bellissimo guardate ragazze lo portate come volete tra le altre cose sono andate ad un altro fornitore questa mattina e ho detto ah però un po' caro eh e mi ha detto sì ma la bengalina è aumentata chissà perché da noi non aumenta mai nulla quindi 48 50 50 52 a seconda di come la volete portare anche di più se la portate aderente come una t-shirt fate voi 30 euro e questo 30 euro Kate? ho visto cioè costava 99 euro questo è l'abito che si arriccia sul collo ha pure la manichina è in un tessuto meraviglioso la fantasia è eccezionale guardate quanto tessuto c'è in questo abito tra le altre cose ha pure la tasca laterale cioè non so cosa dirvi volete fare questo abbinamento e completarlo così? fatelo ora spieghiamo le taglie 40 42 44 46 48 50 forse qualche assortimento ancora dal nostro Ale c'è ma le taglie sono queste Kate ok 40 42 46 48 50 e l'abito ve lo dico subito S M L XL XXL cioè c'è ancora una serie di abiti quindi con questo abito vestiamo fino a una taglia 54 56 vero Kate? sì 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 perché a seconda di come voi gestite lo scollo cioè lo lasciate un filino più aperto cioè riuscite ad avere un giro manica più capiente e soprattutto un abito più scollato lo gestite voi proprio in scollatura capite? il bello di quest'abito è quello a 30 euro lo ridiciamo? mh neanche il nastrino che c'è all'interno mi dà fastidio sentire la mia voce così oggi a me un po' sì a te no a me da fastidio gli scritti che c'è questa Rianna che evito di leggere perché mi va dare fiato no no però non voglio neanche bloccarla Gabri perché non mi interessa ma non capito insiste rompe cioè mi stressa posso stressarmi anche io qua dietro sei quiet nel parlare sì sì no certo mi stressa a me non rompe niente nessuno ci pensano le nostre amiche a rispondere oggi poi sono afona quindi non posso neanche farlo non posso neanche dilungarmi e non è un problema avrà le sue motivazioni e staremo a vedere che cosa vorrà dire cioè io sono qui a fare il mio lavoro e anche se oggi per dire non ho voce e voglio essere rispettata per quello che faccio esatto basta dopodichè probabilmente è una che fa parte della nostra famiglia sapete che ci sono anche un po' i ragazzi magari capestrati quindi se hai qualcosa da dire non lo so vedo che mi sembra che tu l'abbia già scritto di conseguenza andiamo avanti 30 euro l'abito e 30 euro il gilet ok non ci sarà solo lei Cate per cortesia mi leggi no per l'amore di Dio certo grazie molto gentile no ma infatti le nostre amiche chiedono le taglie e colore io continuo su whatsapp grazie io diranno sì perché a memoria non le posso sapere poi non so che taglie hanno non le puoi sapere non sappiamo che taglie hanno loro però io continuo a dirle esatto ok quindi poi ragazze no tipo la pantagonna che colore e che taglia c'è io non lo posso sapere così ragazze lo dico in tutti i video ok la pantagonna parli della nostra crepe allora c'è bianca c'è beige c'è nera c'è il verde verde mela e se non ricordo male anche blu l'aperol e blu quindi ci sono varie taglie di colori dalla 40 alla 54 se qualche taglia è venuta a mancare non possiamo avere la giacenza qui quindi gentilmente scrivi su whatsapp e ti diamo tutte le risposte del caso amore mio ok è lì che rispondiamo quindi anche se questa Arianna ha qualcosa da dire scriva su whatsapp così magari con un vocale ci rispondiamo se c'è qualche spiegazione o motivazione che vuole avere allora ragazze abito palloncino vi ricordate che l'altro giorno vi ho detto che erano gli ultimi probabilmente in magazzino ne hanno trovati ancora quindi svegliamo subito le taglie così sono contente 40 42 nel blu poi li abbiamo anche nel diciamo fucsia rosa chiamiamolo così ma sono solo taglia 52 quindi andiamo passo passo 40 42 io indosserei una 40 veste fino a una taglia 44 giusto cater? si ok se fosse una 46 con un busto piccolo anche quella cioè chi ha una 46 ha un busto piccolo e ha un fianco un pochino più pronunciato questo andrebbe bene anche lì 30 euro bengalina elasticizzato costava 79 euro a 30 euro che materiale è la casacca lunga celeste grazie la casacca lunga celeste forse questa forse viscosa l'ho appena detto a 30 euro se questa che intendi sì perché di lunga vedo questa se questo è un abito 99 euro in georgette visto viscosa e poliestere anche se qui dobbiamo aprire un capitolo sul nostro poliestere perché è stupendo comunque tutte le maglie che ho fatto vedere sono tutte indiscosa altro colore quindi verde azzurro chiamiamolo così fucsia 42 44 48 e 52 allora ve lo gestite un po' come taglia questo gilet da portare aperto non si porta chiuso quindi amori miei chiedete su whatsapp con le vostre misurine alla mano e noi avremo modo di dirvi sì questo ti va ti do una taglia in più ti do una taglia in meno bello perché perché eccolo qua il palloncino volete abbinarlo coordinato fatelo c'è pure anche il completo taglia 52 se lo volete l'abito palloncino solo taglia 52 questo 42 44 48 e 52 e poi facciamo notare alle nostre amiche che lo portate anche qui poi ci mettete una bella cintura se volete e le je son fait ci mettete anche il bucino qui sopra ci mettete anche il verde su questo abito ci mettete tutto quindi 30 euro il gilet 30 euro l'abito palloncino hai lasciato dei rumori Doni Doni guardi se per caso arriva il corriere buongiorno allora giacca 99 euro bengalina calzone zampetta donna palloncino pantalone a sigaretta pantalone sbragato questo c'è nero c'è bianco c'è rosa c'è azzurro e c'è blu e rosso ok yes 59 euro tutti sotto senti che voce ti ho doni sto faticando dove è andata la voce sulla mongosiera è andata sulla mongosiera giacca scusate e tutto il resto sotto 59 euro giacca 99 euro abbiamo voglia di mettere sopra a quello che vi ho appena mostrato questa maglia a 30 euro facciamolo ci sono dei gilet Doni a 30 euro che tu forse si li hai visti quelli dell'anno scorso mi intanto dimentico questo è il fucsia questa è la maglia gemello che vi dicevo prima 39 euro considerate che tutto il nostro video in Brescia parte dalla 40 alla 54 salvo disassortimenti le nostre camice perché le ho posizionate qui perché le ho riassortite questa mattina a 69 euro ma giusto perché le ho viste indossate anche in questo weekend alle nostre amiche che c'erano anche alla festa e tutto quanto ho detto mamma mia ma quanto siete belle anche qui ci mettete tutto quello che volete pantalone blu volete fare l'abbinamento così? pantalone e sigaretta? mettete il rose mettete il bianco fatelo volete mettere il pantalone sbragato? bellissimo poi ricordatevi che tutti gli abbinamenti poi li fate giacca bianca, giacca azzurra, giacca rosa blu su blu quasi anche il nero sta bene con questo tipo di blu e la giacca stupenda e meravigliosa parliamo della bengalina poi quelle che avevo indosso adesso magari la rimetto in questo caso ho questa a 99 euro che anche questa abbiamo in tantissimi colori camice guardate come sono particolari scese vedete sono una meraviglia adesso cambio questa giacca e mi rimetto la prima con la quale sono partita Carmencita dice che stamattina era vestita uguale a te davvero jeans t-shirt e giacchina è vero che tu hai questa giacca allora ricordatevi tesori miei quando ci sono i bottoni rivestiti grazie che mi devi sempre in là per dire queste cose ma anche perché un'altra amica era successo con un gilet salvate sempre i bottoni ma anche delle t-shirt qualora avessero non queste ma delle applicazioni che vedete leggermente mobili dategli una saldatina perché poi non c'è più la possibilità di trovare qualcosina come un bottone che cade capite ecco questa segnalazione ve la do così lo sapete se dovesse capitare di perdere un bottoncino in metallo quelli li abbiamo non è un problema e ve li mandiamo magari al prossimo acquisto detto tutto il nostro abito bellissimo in questa tonalità eh se 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 abbiamo l'abito a questo punto abbiamo anche il gilet a 30 euro non è 30 euro sappiamo che tutta questa mole di tessuto guardate quanto è bello volete farlo così arancione 42 44 e 46 40 ok 40 42 44 e 46 a 30 euro in questo caso ci mettiamo sotto il nostro abito a 99 euro è un affarone volete invece portarlo smanicato e mettere la nostra cioè guardate un capo da 30 euro come fa risaltare il nostro top a 59 ripeto volete mettere sotto il blu volete mettere sotto il bianco volete mettere sotto il verde cioè ovvio che quando avete un completo così sotto ci mettete tutto quello che volete si sta bene pure per dire la gonna Aperol che è questa la nostra amica ha chiesto prima qual'era il colore Aperol è questo ed è bellissimo possiamo anche vedete abbinarlo così che dite tesori 59 euro poi chiedete su whatsapp i colori in questo caso questa è una canotta della malandrina quindi un 48 50 52 vediamo perché tagliate in sbieco volete prendere e abbinare sotto questa fatelo prezzo ve lo dico subito a 39 euro vogliamo mettere la nostra maglia scusate che tolgo anche l'abito in questo preciso istante quindi volete mettere la nostra la nostra maglia bellissima scusate che tolgo la bichino in georgette che è stupendo questa è una meraviglia ragazze vedete che con qualcosa a 30 euro della stagione precedente non siamo assolutamente fuori rotta guardate qua questo è quello che ha il buchino sulle spalle come quello che indossava anzi bisogna ringraziare le nostre amiche perché il video con la marina è stato un'esplosione di morbidosa vero? le nostre morbidose sono bam 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 scompiate bello vedere i capri indossati avete fatto delle ottime scelte quindi vi ringrazio 30 euro 59 euro la maglia e guardate per dirla tutta ci vogliamo mettere sotto la camicia facciamolo dalla 40 alla 54 possiamo fare anche quello non è ancora finita il nostro abito l'ultimo taglio che abbiamo fatto vorrete abbinarlo così e tirare vedete sopra 30 euro quando poi avete questo abito potete metterlo anche verde potete mettere di tutto eh cioè guardate se ve li siete dimenticate chiedete le taglie 30 euro dei gilet 79 euro l'abito è tutto un dire ma non è ancora finita abbiamo anche taglia 42 44 46 nell'arancione e abbiamo ancora anche questa camicia bellissima qualora la volessimo portare col pantalone blu sotto e poi metterci il gilet arancione sopra ti sbizzarrirai a fare un po' di abbinamenti nuovi con 30 euro potete fare tutto quello che più vi aggrada dopo ricapitoliamo i colori dei gilet questi sono i due abiti che vi dicevo poi saranno da apprezzare i doni perché tutti i gilet e questi abiti e questo a 30 euro e i palloncini eh costava 99 euro 30 euro sono gli ultimi due small e una media ma vestono molto bene Cater ti ricordi? che vestono proprio proprio bene perché con questa media si può anche vestire una 46 a seconda del giro seno quindi io porterei una small comunque e poi ovviamente qui ci mettiamo una bella cintura in vita a seconda della vostra taglia della vostra vita e tutto quanto tessuto mano pesca costava 99 euro attenzione Cater lo dico anche a te al prossimo video arrivano questi abiti in 3 o 4 fantasie senza manica con il collo a pellicano ti ricordi che erano quelli che vestivano molto ma molto bene arrivavano anche una 56 bene ci saranno ok? da 99 euro a 30 euro è stupendo ci si può andare anche a un matrimonio volete prendere il gilet e abbinarlo sopra fatelo o quello arancione o quello verde volete fare un abbinamento in più ragazzi oggi è la vostra gabri penso che più di così non si possa fare quindi ricordiamo alle nostre amiche i colori dei gilet sono arancione 40 42 aspettate che li li mettiamo insieme 40 42 44 46 azzurro 40 42 44 46 48 50 54 rosa secondo me ce n'era ancora uno qua ecco qui 42 44 48 e 52 e questi sono tutti i colori dei gilet i nostri abiti ve l'abbiamo detto questi in tutte le taglie dalla 42 alla 54 56 30 euro guardate ragazzi perché sono gli ultimi rimasti non si può vendere queste cose a questi prezzi comunque palloncino sono solo taglie 52 e 54 a questo punto Kate ok e blucina 40 42 veste fino a una bella 44 anche una 46 qualora avesse poco seno le nostre tute questa è quella che indossava Marina nel video precedente è una taglia 50 veste 50 52 in bengalina guardate super elasticizzata sono volate queste sono le ultime rimaste sono due taglie 50 52 in questo caso l'abbiniamo all'arancione facciamolo l'abbiniamo al turchese facciamolo l'abbiniamo al verde e facciamolo l'abbiniamo al fruxia facciamolo potete abbinare tutto quello che più vi agrada guardate i colori che ci sono qui dentro abbinate questa tuta a tutti questi colori e sono una meraviglia una tuta scontata a 30 euro in bengalina guardate è una seconda cioè una cosa incredibile vedete e poi facciamo vedere questa 49 euro tutta lavorata all'uncinetto vedete dentro ha il suo sacco per cui potete inserire le cose all'interno e chiuderle è una meraviglia mi è piaciuta l'idea e anche i colori adesso andiamo a farli vedere Kate ma che bello è ma che bella è dai cominciamo a dire del tempo nulla vieta che la potete anche abbinare così che dite amori miei direi proprio di sì 49 euro vieni che facciamo vedere a parte tutte le nostre storie sotto a 20 euro tutti i nostri accessori che poi ci lavoreremo ma guardate ragazzi i colori di queste borse verde si può dire che sia un un blu viola per vinca vero? è molto molto bello il fucsia anche questo fucsia particolare perché è una specie di geranio di ciclamino e questo questo burro che non è bianca non è avorio non è beige una meraviglia possiamo far vedere queste 49 euro guardate riusciamo a spedirle perché si piegano e devo sempre fare quella prova eh prima del dunque tutte queste 39 euro e tutte queste 69 euro queste 30 eh scusate ancora 30 euro cioè tra una cosa e l'altra 30 euro questa 49 euro 69 euro questa in pelle questa ovviamente è ecco pelle per chi si chiedesse cos'è sintetico anche se non sembrerebbe perché io stessa non capivo ho dovuto chiedere e questa in pelle a 69 euro quindi amore miei cosa vi devo dire ero partita così doni si sta bene no? mi dai la borsa quella quale ho iniziato quella lì argento bellissima c'è sia in questo colore sia in questo le dobbiamo ancora togliere ad ogni che sono di là dall'altra parte qui ho accessorato i nostri i nostri ciarellini ma poi poi scegliete voi di fare quello che volete queste sono cinture a tutti gli effetti facciamo vedere alle nostre amiche così si danno idea queste costano 20 euro vedete questo è un nastrino a tutti gli effetti che potete abbinare e poi girare guardate fino a farne due giri per chi ha una 42 44 e poi un giro solo c'è chi dice io lo metto doppiato lo metto anche al collo infatti quello che più vi agrada è lo stesso articolo della borsa vedete 20 euro e la borsa 49 euro bene amiche mia spero che nel prossimo video la vostra Gabriella abbia la voce come di consuetudine se avete delle richieste dove solo ed esclusivamente su whatsapp per chi è un pochino più lontana o per chi diciamo vuole farsi spedire l'articolo è meglio dire così perché poi sarà anche vicino e vorranno far spedire anche da vicino mentre invece chi di voi gradisce passare il negozio troverà la nostra donatella oppure chiamate allo 030 80 30 61 diciamo che come negozio in presenza siamo a Villa Carcina provincia di Brescia diversamente ci potete seguire su instagram per il re pagina Gabriella Sabigliamento Donna per quanto riguarda facebook youtube voi digitate Gabriella Sabigliamento sia che cerchiate il sito sia che poi è un sito cartolina quindi troverete il nostro invito d'ingresso dove trovate tutte le nozioni sulla privacy allora mi ero ripromessa di parlare meno infatti ti consigliano il miele è già la seconda che ti consiglia il miele per questa vocetta miele e pulvo si ho fatto ieri sera va bene? eh ma non è abbastanza quanto pare insisti eh beh si dovrei stare anche un po' zitta però stamattina che corro adesso vediamo cosa posso fare stamattina è arrivata una mail che ci sono su certe regioni un po' di ritardo lo dico perché si ad alcuni il messaggino è arrivato ecco quindi lo diciamo se c'è qualche se avete qualche problema non preoccupatevi comunque i nostri numeri di telefono per whatsapp servono anche per queste indicazioni anche per chiedere tutte le nozioni che volete chiedere qualsiasi cosa noi siamo a vostra disposizione ok? adesso vado a prepararmi miele e limone eh si anche latte caldo dicono vabbè è solo miele e limone città di garofano e cannella anche e poi ti infilo in forno Gabriele con qualcosa in mezzo Daniele dice che forse l'aereo sole è meglio forse l'aereo sole è meglio sapete cosa faccio? ti conviene vado a fare un giro dal mio medico di base e gli chiedo così vedo un attimino cosa mi dice di fare comunque sia ragazze essere operative sempre eh dedicarvi il mio tempo sempre questa mattina che sono andata a procacciare articoli anche quando ho visto questi abiti questi gilet ho detto ma sì ma non è possibile non farvi vedere in questo momento con tutto quello che di bello abbiamo da abbinare vi ricordo la nostra giacca a 99 euro la nostra t-shirt a 25 e questo jeans che è meraviglioso perché comunque eh vedete che non è lo skinning completamente aderente di gamma questo ad esempio è quello che piace a me lo porto molto molto volentieri dalla XS alla XL ok? quindi 40 42 44 poi dipende una può avere una 48 la XL va bene magari avere la vita stretta misurina alla mano e noi cercheremo di accontentarvi quindi 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 ciao amiche mia prossimamente su questo schermo tocca a te adesso cerco di tacere ecco grazie ciao a tutte ciao